Mancano poche ore al Gay Pride in programma a Salerno, ma si alzano i toni dello scontro. Sabato il corteo promosso dalle associazioni LGBT e patrocinato dal Comune, che ha contribuito con 2.500 euro. Soldi finiti nel mirino del centro-destra, che ha attaccato duramente la scelta dell'amministrazione salernitana. Intanto, sabato si annuncia una giornata di cortei. Da un lato il Pride arcobaleno, dall'altro la contramanifestazione promossa dalle congreghe religiose dell'Arcidiocesi. Rispettiamo i diritti di tutti, però decidere di dare 2.500 euro dei soldi dei cittadini italiani per una manifestazione che molto spesso degenera in provocazioni e qualche volta anche in volgarità, è uno schiaffo alla miseria. Qualcuno ha detto che il contributo è piccolo, andatelo a dire alle famiglie che con difficoltà arrivano a fine mese, andatelo a dire a tutti quelli che vanno al Comune a bussare disperati, gli viene detto no, mi dispiace, non ci sono soldi. E poi una domanda, si vestono della tutela dei diritti, però io mi chiedo, ma chi difende i diritti dei bambini ad avere una mamma ed un papà? Chi difende i diritti delle mamme, delle donne che vengono schiavizzate per 9 mesi per affittare il loro utero per soddisfare qualche ricco snob radical chic? Chi li difende questi diritti? Chi difende il diritto a vederlo, non vi li pesa la propria tradizione religiosa, la propria ispirazione cristiana? Tutti questi diritti scompaiono. Ovviamente ognuno ha le posizioni proprie, io però una cosa dico, non hanno mai accettato il confronto, quindi sicuro non rispettano il diritto di opinione altrui.